Benvenuti nel canale spettacolo 24. Canale di intrattenimento attraente e interessante. Elisabetta Gregoraci ha una relazione con un famoso cantante rap? Finalmente, dopo mesi, parla il diretto interessato, leggi le sue parole. I rumors sul presunto flirt fra Elisabetta Gregoraci e Mr. Rain hanno già fatto il giro del web nei mesi scorsi, ma ora si fanno sempre più insistenti. Per metterli a tacere una volta per tutte, il cantante ha deciso di rilasciare un'intervista esclusiva al magazine del quotidiano Il Fatto Quotidiano. Leggi anche, GFVIP, Giulia Dell'Ellis difende i prelemi dalla Gregoraci e Signorini, foto, foto, chiocciola MR Rain Official, i.g., Mr. Rain ha mandato un aereo a Elisabetta Gregoraci, mentre la ex GFina si trovava ancora nella casa del GFVIP, è arrivato per lei un aereo molto speciale che trainava la scritta, moltissimi hanno pensato che questa dedica alla Gregoraci fosse proprio da parte del famoso rapper Mr. Rain. Ma è vero? Dopo l'aereo speciale, moltissimi magazine di gossip hanno voluto insistere su questa pista, ricordiamo che a ottobre, su Novella 2000, si leggeva questo, Mr. Rain parla di Elisabetta il giornalista del Fatto Quotidiano ha chiesto al rapper, la risposta di Mr. Rain non si è fatta attendere. Ecco le sue parole, allarme rientrato, quindi. Elisabetta Gregoraci non è felicemente fidanzata con un famoso cantante, il mistero è finalmente risolto. Foto, chiocciola MR Rain official, i.g.